Anche se la terra continua a tremare, le popolazioni studentesche di Rieti ed Amatrice sono quasi tutte tornate sui banchi. Ancora incerta resta la data di riapertura del liceo scientifico IUCI, che si trasferirà al consorzio industriale classificato completamente inagibile per rischio esterno, mentre è fissata per il 25 novembre il rientro nella loro sede naturale delle scuole dell'infanzia elementare Marconi. Ci siamo presi tutto il tempo necessario per le verifiche e per i lavori di ripristino e risanamento, dichiarato il sindaco Simone Petrangeli, ma la paura tra i genitori resta. E ci si chiede cosa sia cambiato rispetto alla questione della sicurezza rispetto a 15 giorni fa. Si continuano a chiedere i prefabbricati, ma l'amministrazione comunale di Rieti non ne vuole sapere. Il 18 novembre poi sarà la volta del vertice in comune per tornare ad affrontare il problema dell'edilizia scolastica nel territorio comunale e provinciale. al fine di redigere un piano scuola che permetta una programmazione concreta e di rapida attuazione.